Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Caroline Smith e la notizia sul tumore. Come molti sanno la coreografa e ballerina scozzese sta lottando da diverso tempo contro il terribile male. La presidente della giuria di Ballando con le Stelle ha spesso aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Dal 2015 è alle prese con una recidiva del tumore maligno al seno. Caroline ha voluto sensibilizzare il pubblico partecipando a diverse campagne e invitando le persone a non smettere di combattere. Caroline Smith ha più volte condiviso i momenti più importanti di questa lotta. Anche se ha attraversato periodi difficili, non ha mai smesso di svolgere le attività che più ama o di dedicarsi a familiari e amici. Ha anche annunciato di aver fatto un pulizia nella sua vita eliminando le persone tossiche. Tuttavia in una recente intervista al settimanale Gente ha fatto un annuncio ai suoi fan dando l'ennesimo aggiornamento sul suo stato di salute. Come purtroppo tante volte accade il tumore è ricomparso. Caroline Smith lo ha fatto sapere ai suoi fan nell'ultima intervista. Il tumore al seno che sto combattendo dal 2015 è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po' come se giocasse a nascondino, un po' scompare un po' riappare. Già da gennaio scorso la giudice di ballando ha saputo dai medici di doversi sottopore ad una cura più aggressiva. Oggi svolge la chemioterapia ogni tre settimane. Il giorno dopo la chemio Caroline deve fare una puntura per proteggere il midollo e aumentare i globuli bianchi, e non è una passeggiata, fa sapere la coreografa. Nonostante il suo spirito e la sua energia le ultime notizie sul male hanno finito per gettarla nello sconforto. In crina, anche solo per pochi istanti, il mio inguaribile ottimismo da combattente, dice la Smith. Caroline Smith ha comunque al suo fianco amici, familiari eppure una persona speciale, Millie Carlucci. Lei è una donna empatica, umana, piena di garbo. La giudice ha spiegato di aver ricevuto un grande aiuto da parte della conduttrice subito dopo la diagnosi. È stata la mia salvezza. Si è attivata subito e mi ha fatto conoscere l'oncologa Adriana Bonifacino. Dopo lo screening mi ha detto esattamente quello che avevo e, da quel giorno, mi sta curando. Si può dire che Millie mi abbia salvato la vita, che la danza mi salva la vita ogni giorno. Ballando con le stelle è un'iniezione di positività, mi dà un irrinunciabile grinta. A Caroline Smith e a tutte le persone che stanno combattendo la loro battaglia contro il male vanno gli auguri di poter guarire e vivere serenamente la loro vita.